E ora è il tocco della perfezione, buonito? Everest! Nooo, non voglio perdere! Ora arrivo a un gioco terribile! Il critico! Che orrido imbrattatele! Capolavoro! Maestro! Maestro! Organizziamo una mostra! A me la DSL! Con Infostrada DSL telefonate a 24,95 euro al mese e con soli 3 euro in più, navighi senza limiti anche fuori casa. Chiama in 159 o vieni nei negozi Wind.